La mia recensione di Linux Mint 21.1 dopo mesi di utilizzo di Mint 21 Cinnamon come sistema operativo quotidiano. Non tutto era ancora a posto, ma adesso ci siamo. Mint 21.1 conferma la validità del rilascio dell'estate scorsa e porta con sé inattese novità. Le vediamo insieme ai miei test e indicazioni sull'opportunità di aggiornare da una versione precedente. Ciao, sono Dario di Alternativa Linux. Ho anticipato le principali novità nel video su Linux Mint 21. Questo video ne è il seguito. Anche in distribuzioni Linux per principianti 2023 parlo di Linux Mint. Non mi ripeterò se non per mostrare le modifiche più sostanziali di cui all'epoca erano disponibili solo screenshot. Dal 20 dicembre 2022 sono disponibili le nuove edizioni di Linux Mint 21.1, basate su Ubuntu 2204 LTS. L'edizione ammiraglia è quella Cinnamon, con l'ambiente desktop caratteristico, somigliante a quello di Windows. Lo scopo è attirare utenti, grazie ad un aspetto intuitivo e familiare. Anche le edizioni Mate e Dexface di Linux Mint adottano uno stile del desktop simile a quello di Windows e sono progressivamente più leggere e meno impegnative per computer datati e poco performanti. Prima di Linux Mint 21 ho già parlato delle differenze tra le edizioni di Linux Mint e nella recensione di LMDE, Linux Mint Debian Edition. Quest'ultima edizione toglie di mezzo Ubuntu e si basa direttamente su Debian no Linux. L'esperienza d'uso di LMDE è identica a quella dell'edizione Cinnamon e prevede i medesimi programmi. LMDE prevede anche un'edizione per architetture a 32 bit, a differenza di tutte le derivazioni di Ubuntu, ufficiali e non, che non le supportano più dal 2020. Partiamo proprio da Linux Mint 21.1 Cinnamon. Ho detto che oltre a integrare le migliorie apportate al Linux Mint 21 dall'estate ad oggi, ci sono in attese novità. Per l'aspetto del desktop della edizione Cinnamon, ma anche per quello delle edizioni Mate e Dexface, si avvia un rimodernamento che in molti attendevamo. Cinnamon era già stato riprogrammato per il rilascio di Mint 20 e ancora aggiornato a tecnologie più recenti con Mint 21. I problemi che alcuni utenti sperimentavano fino a Mint 19 sono solo un ricordo. Da Linux Mint 20.2 in poi, nelle impostazioni generali del centro di controllo, si trova un sistema di monitoraggio delle risorse impegnate dall'ambiente desktop Cinnamon. Superato un limite di memoria RAM che puoi modificare, il programma desktop si riavvia senza che tu te ne accorga. Le modifiche all'aspetto riguardano anzitutto i colori dei temi, che puoi verificare dai primi passi della schermata di benvenuto, o in temi sotto preferenze. Il tema predefinito non è più verde ma azzurro. Non abbiamo bisogno del verde per essere riconoscibili, dice il capo del progetto. Mint infatti ha la sua precisa identità e il nuovo tema predefinito azzurro e gli altri risultano in colori tutti assai più vivaci e il rosso a mio parere anche troppo. Si comportano comunque molto bene anche con i temi scuri che io apprezzo e uso da sempre. Le cartelle assumono un aspetto giallo uniforme in tutti i temi e sono stati rimossi anche altri cosiddetti accenti di colore. Se passi sulle voci del menu vedrai ad esempio infatti sempre un colore grigio scuro. Può sembrare un passo indietro ma razionalizza e alleggerisce il desktop ancora di più senza grossi sacrifici e vedremo nel dettaglio l'effetto di queste semplificazioni. I vecchi temi sono sempre disponibili, indicati come legacy, e si possono combinare stili differenti per parti diverse delle finestre. Sono inoltre integrati nuovi temi, in precedenza non disponibili, che trovi anche in Ubuntu e altre distribuzioni GNU Linux. Si tratta dei temi Breeze, Papyrus, Numix e Yaru. Il puntatore del mouse è più moderno ma ne puoi selezionare anche altri, tra cui alcuni nuovi. La clessidra di attesa colorata è quasi un piacere vederla girare. Quando ti avvicini ai bordi delle finestre nuove maniglie sostituiscono gli indicatori precedenti. Quando cerchi di ridimensionare una finestra dagli angoli il puntatore assume un colore diverso in ognuno di essi. I suoni di sistema sono molto più discreti tanto che non li disattevo più come facevo fino a Mint 21. Nel lato destro del pannello, quello delle cosiddette applet, è stato inserito un piccolo spazio cliccabile per abbassare tutte le finestre e mostrare il desktop in stile Windows 10. Precedentemente era previsto un bottone sul lato sinistro del pannello. Un'altra novità nell'aspetto, gli utenti l'hanno già trovata con Mint 21. Le opzioni legate ai temi non prevedono più la selezione dei tipi di bordo e di bottone per aprire, chiudere e minimizzare finestre. Alcuni ne sono delusi e per certi programmi sta ancora creando qualche anomalia. Ma le ragioni stanno nelle difficoltà eccessive per continuare a sviluppare soluzioni ibride che si adattino bene a tutti i programmi a seconda delle tecnologie legate alle finestre con cui questi sono stati realizzati. Mint 21.1 in tutte le edizioni elimina qualunque icona dal desktop per impostazione predefinita. Il team dice che gli utenti sanno già che apri la tua cartella home avviando il file manager dall'icona nel cosiddetto pannello vicino al pulsante per aprire il menu. Finalmente è stata introdotta l'opzione per bloccare i cosiddetti desklet in posizione. Non di rado infatti ti ritrovavi a trascinarli involontariamente per la scrivania. Non è tantissimo, d'accordo, ma è un primo passo e un chiaro segnale del fatto che ancora una volta le richieste degli utenti sono ascoltate, prese in considerazione dal team di Linux Mint e spesso integrate nel sistema operativo. Come accennato in occasione dell'anteprima, tra le maggiori novità introdotte con Mint 21, una differente gestione dei servizi Bluetooth affidati al programma BlueMan. Il programma si raggiunge sempre dall'icona applet Bluetooth o dall'opzione Gestore Bluetooth nel menu principale di Linux Mint sotto Amministrazione. Se il tuo chip Bluetooth fa parte della stragrande maggioranza di quelli supportati da Linux, non devi fare nulla perché funzioni e troverai l'icona Bluetooth nel pannello delle applet. Metti il dispositivo da associare in stato di pairing, avvia la ricerca e quando il dispositivo è trovato clicca con il pulsante destro e su Associa. Riceverai un avviso per impostare l'avvio dei servizi Bluetooth con il sistema operativo e di connettere automaticamente i dispositivi già accoppiati quando li accendi. L'attuale gestore Bluetooth ha più opzioni rispetto al precedente programma ed ho sperimentato tempi più rapidi di riconnessione a dispositivi già associati. Che si tratti dello smartphone, di tastiere e mouse, cuffie o altoparlanti. Da Linux Mint 21.1 viene introdotto un fantastico strumento di verifica di immagini ISO con cui sono spesso distribuiti sistemi operativi di ogni genere. È molto importante verificare che un file ISO scaricato non sia danneggiato e che sia firmato digitalmente dall'autore. A questo scopo, nel sito web ufficiale trovi sempre una cosiddetta somma SHA256, una specie di codice a barre unico per quel file e la chiave criptografica pubblica della firma dell'autore. Queste informazioni vanno confrontate con quelle presenti nel file che hai scaricato. Finora questo genere di controlli era piuttosto complicato, sia in ambiente Linux che Windows. Il boss del progetto Linux Mint spiega che il nuovo strumento è complesso e ancora da rifinire, ma a me funziona benissimo. Clicca con il pulsante destro del mouse su un file ISO e trovi la voce VERIFY ad oggi evidentemente ancora non tradotta, ma è l'unico caso che ho trovato per ora. Lo strumento comincia ad effettuare un controllo della somma. Calcolata la somma, se il file ISO appartiene ad una edizione di Linux Mint o Ubuntu, basterà cliccare su VERIFICA, perché nella scheda URL sono già indicati gli indirizzi web dei file per la verifica. Attendi qualche istante e riceverai informazioni sull'integrità e autenticità del sistema operativo. Nei casi di sistemi operativi diversi da Linux Mint o Ubuntu, scarica dal sito web ufficiale la somma SHA256 e la firma del file Passa alla scheda file locali dello strumento, indica la posizione e verifica. Se il controllo ha esito negativo, riscarica il file ISO dal sito ufficiale e riprova. Linux Mint integra da anni un'utilità per creare chiavette USB avviabili con sistemi operativi di ogni genere. Clicca con il pulsante destro su un file ISO e troverai la voce CREA PEN USB avviabile. Seleziona la chiavetta da preparare e avvia. In un paio di minuti avrai pronta una chiavetta avviabile su computer di ogni tipo, grazie alla presenza di due partizioni, una per i computer vecchissimi basati su BIOS e una per quelli più recenti basati su UEFI. Lo strumento è stato ulteriormente migliorato ed integra il richiamo all'utilità di verifica del file prima della creazione della chiavetta, oltre ad informazioni supplementari su come provvedere per preparare un supporto con un sistema operativo Windows. Altre novità risiedono nella gestione dei monitor, che trovi nel menu sotto Preferenze o nelle impostazioni di sistema sotto Hardware. Viene finalmente introdotto, ancora in fase sperimentale, lo zoom del desktop, per migliorare la visione su schermi piccoli o ad altissima risoluzione. Sono state semplificate le operazioni per la disattivazione contemporanea di uno schermo e l'attivazione dell'altro, per duplicare il contenuto degli schermi o per estendere il desktop negli schermi supplementari. In tutte le edizioni Linux Mint prevede il suo store di applicazioni ufficialmente approvate e testate. Questo consente di esplorare decine di migliaia di software installabili gratuitamente con un solo clic. Sia quelle dei repository, gli archivi ufficiali dei cosiddetti pacchetti software, sia quelli integrati dallo store FlatHub, cui molte altre distribuzioni GNU Linux si appoggiano. Ho già chiarito questi concetti nel video verificare e installare programmi in Linux. Ebbene, il nuovo gestore applicazioni è stato ridisegnato e migliorato nell'aspetto grafico e nella semplicità con cui i programmi di repository ufficiali e i Flatpak possono venire identificati. Quando un programma è presente sia nei repository ufficiali che come Flatpak, un menu a discesa consente di passare dalla visualizzazione dei dettagli sul peso e spazio richiesto su disco per i file da scaricare e sulla versione del programma stesso, al fine di isolare la versione preferita e procedere all'installazione. Anche il sistema di controllo, scaricamento e installazioni di aggiornamenti di Linux Mint è stato oggetto di attenzioni e ha ricevuto migliorie. I programmi in formato Flatpak, esterni agli archivi ufficiali di software, sono adesso aggiornabili con un click assieme a quelli dei repository verificati. Anche chi abbia installati Desklet e Applet, segni distintivi di Cinnamon che ho descritto in Personalizzare Linux Mint Cinnamon, si aggiornano automaticamente a partire dal gestore applicazioni. Quanto alla dotazione predefinita di programmi, è bene specificare anzitutto che ogni edizione di Linux Mint può riprodurre qualsiasi tipo di formato audio e video senza alcun intervento, purché siano inclusi, in fase di installazione o successivamente, i cosiddetti codec audio e video, non open source ma gratuiti. Dei programmi più caratteristici di Linux Mint ho parlato in Distribuzioni Linux per Principianti 2023. Curiosità di cui non ho ancora trovato una spiegazione ufficiale, è la versione adottata di LibreOffice. Si tratta della versione 7.3 per Mint 21.1, mentre Mint 21 è stato rilasciato con la versione 7.4. Ho effettuato test di installazione per verificare tempi, prestazioni e reattività. Ho anzitutto consultato i requisiti del PC, che sono identici per tutte le edizioni. Nessuna indicazione sul tipo di microprocessore, ma un dual-core è raccomandabile. Le indicazioni ufficiali parlano solo della quantità di memoria RAM. Il minimo è 2 GB, ma ne sono consigliati almeno 4. La risoluzione dello schermo non deve essere inferiore a 1024 x 768 pixel. Quanto allo spazio necessario, considera che quasi 20 GB li occupa il sistema operativo, senza programmi aggiuntivi, e che sarebbe quindi meglio riservare alla partizione Linux almeno 100 GB al fine di avere spazio a sufficienza per altri programmi e per i propri file. Si tratta di caratteristiche del computer davvero minime. Come regola generale posso dire che un computer rilasciato con Windows 7 oppure 8 e successivi girerà perfettamente con Linux Mint 21.1 in qualunque edizione. Ma non farei comunque a meno di un SSD in sostituzione di hard disk meccanico. Ho quindi scaricato e verificato le immagini ISO delle tre edizioni principali di Linux Mint 21.1. Ognuno dei file supera di poco i 2,6 GB. Ho preparato una chiavetta USB 3 collegata ad una porta compatibile. Per introdurre elementi di novità che non ho trattato in precedenza ho condotto diversi test. Ho provato le tre edizioni una alla volta, installandole come unico sistema operativo. Ho usato il mio portatile Acer Travelmate del 2016 con Intel Core i7, 8 GB di RAM, un SSD Samsung, schermo Full HD da 15 pollici e scheda video Nvidia GeForce 940MX con 2 GB di memoria dedicata. Computer portatile di fascia piuttosto alta, è vero, ma non dimentichiamo che ha comunque 7 anni di età. L'installazione di Mint 21.1 Cinnamon richiede meno di 6 minuti e circa altri 10 per aggiornare il sistema con i circa 260 MB di aggiornamenti rilasciati ad oggi e per installare i driver video Nvidia. Se non hai nel computer un SSD, non puoi usare chiavette USB 3 o superiori o se non hai una connessione internet veloce, i tuoi tempi saranno certamente più lunghi. L'edizione Cinnamon impegna a riposo 1,1 GB di memoria RAM ed è una cosa veramente eccezionale per un sistema operativo contemporaneo e completo di tutto. E posso confermare che solo un paio di anni fa un ingombro inferiore a 1,6 o 1,7 GB di RAM non era pensabile con l'edizione Cinnamon. Quanto detto finora a proposito delle novità di Linux Mint 21.1, si riferisce principalmente alla edizione Cinnamon. Vediamo quindi come si comporta l'edizione fornita con l'ambiente desktop MATE, così chiamato in riferimento all'infuso energizzante latinoamericano. Stessa chiavetta USB, stessi tempi di installazione, circa 5 e altri 10 per scaricare e applicare gli aggiornamenti già rilasciati e driver proprietari per schede video Nvidia. L'impegno di RAM di Linux Mint 21.1 MATE si aggira sui 975 MB prima di cominciare con le attività. È quindi giustificata l'indicazione di 2 GB di RAM come sufficienti a farci molte cose. L'edizione MATE si porta dietro il fantastico, leggero ma completo menu principale che avvida il bottone Start sulla tastiera o con il pulsante sul lato inferiore sinistro dello schermo. Il menu di MATE riappiloga tutti i programmi, tutte le opzioni di configurazione, consente ricerche anche nel web e prevede una schermata dei programmi preferiti per accedervi più rapidamente. In sostituzione di Nemo, il file manager dell'edizione Cinnamon, trovi quello tipico dell'ambiente desktop MATE, Kaja. Il suo utilizzo è molto simile a quello di Nemo e anche se le impostazioni e preferenze sono differentemente organizzate, le ritrovi tutte. L'edizione MATE è molto leggera ma si distingue anche per l'incredibile varietà di effetti applicabili tramite l'utilità CompizConfig, che però richiedono computer più performanti e voglia di sperimentare. Benché l'ambiente desktop e alcune utilità di contorno siano specifiche di questa edizione, anche in Linux Mint 21.1 MATE trovi i programmi caratteristici di Linux Mint Cinnamon ed un aspetto coerente e omogeneo. Quanto all'edizione X-Face l'ho installata, aggiornata e configurata nel mio Acer Travelmate con gli stessi tempi richiesti per le altre. Meno di un quarto d'ora in totale. L'edizione X-Face però fa meglio di tutte le altre quanto a consumo di risorse, perché impegna circa 930 MB di RAM a sistema completamente avviato. L'esperienza desktop anche in Linux Mint 21.1 X-Face è uniformata a quella dell'ambiente Cinnamon. Il tema predefinito è il medesimo. L'apprensato ambiente desktop X-Face nella versione 4.16 adottata per questa edizione porta con sé una personalizzazione stilistica dell'apprezzatissimo file manager Funar, delle sue possibilità di espansione di funzioni e delle utilità di configurazione correllate. Linux Mint 21.1 X-Face è il mio primo consiglio per un computer vecchio o poco dotato, purché con architettori a 64 bit. Perché preferire Linux Mint ad altre distribuzioni GNU Linux? In chiusura del mio video su Linux Mint 21 spiego le ragioni per cui ne ho fatto il mio sistema operativo principale da anni e vi riassumo filosofia e natura. Riassumo brevemente. Si tratta anzitutto di un progetto stabile e affidabile che esiste da oltre 20 anni, che è giunto alla versione 21 e non sparirà certo da un giorno all'altro. Anche se non viene da un'azienda con scopo di lucro, ma da una comunità di sviluppatori che vive di sponsor e donazioni. Linux Mint è adatto a contesti in cui si cerchi stabilità a lungo termine. Ogni versione principale e successivi aggiornamenti cosiddetti minori ricevono aggiornamenti e supporto per cinque anni. È inoltre integrato Timeshift, strumento per ripristinare il computer ad uno stato precedente se qualche aggiornamento crea problemi. Di Timeshift il team di Mint ha rilevato di recente la gestione dal suo ideatore, che non lo aggiornava più. Timeshift è apprezzato da molti utenti oltre quelli di Linux Mint e grazie a Linux Mint potranno beneficiarne anche in futuro. Un'altra ragione è la semplicità di utilizzo. Dai un computer con Linux Mint ad una persona anche poco esperta e saprà usarlo senza quasi bisogno di istruzioni, per la familiarità con Windows. Il centro impostazioni è di una semplicità disarmante, ma non è povero e non manca nulla. La dotazione software predefinita poi è sufficientemente ricca da poter soddisfare, senza ulteriori programmi, le esigenze della stragrande maggioranza degli utenti per gli utilizzi più comuni, già al termine dell'installazione. E le esigenze di manutenzione sono minime. Quando il gestore aggiornamenti mostra un pallino rosso, clicchi un pulsante e in un colpo solo aggiorni sistema, sicurezza e tutti i programmi preinstallati o installati successivamente. Ultimo, ma per me primo, aspetto per preferire Linux Mint è l'ossessione per la privacy del team, che garantisce di non tracciare in alcun modo le attività dei propri utenti. Se sei già utente di Linux Mint, quanto all'opportunità di passare a Linux Mint 21.1 da versioni precedenti, non c'è una risposta assoluta. Questo dipende dal tipo di computer, dalla sua età e dalle tue esigenze con quel computer. E non dovrebbe essere fatto, senza consultare le pagine di rilascio e quelle sui problemi noti. Il fondatore del progetto Linux Mint, nel mio piccolo anche io, suggerisce di non avere fretta ad aggiornare il sistema se tutto funziona, visto che gli aggiornamenti sono garantiti per 5 anni. Io consiglio cautela specialmente per il passaggio da una versione .3 al rilascio maggiore successivo. Già nell'anteprima di Linux Mint 21, indicavo la regola generale di attendere una versione .1 per farlo. I fatti mi hanno dato, purtroppo, ragione e lo ribadisco in questa occasione. Lo strumento di aggiornamento da Mint 20.3 a Mint 21, considerato strategico per il team, è molto migliorato rispetto a quello per il passaggio da Mint 19.3 a Mint 20. Però ha dato ancora problemi nel corso dell'estate. Non sempre il problema è di peso da Linux Mint 21 in quanto tale, ma dalla complessità e imperfezione della procedura di aggiornamento. Chi, infatti, come sempre suggerisco, ha effettuato una installazione cosiddetta pulita del sistema operativo, cioè salvando un backup, formattando e installando con una nuova chiavetta, ha infatti incontrato minori problemi. In ogni caso, alcuni problemini di immaturità, che a me non hanno mai interrotto alcuna operazione, nei primi mesi dopo l'uscita di Mint 21 ci sono stati. Ma sono stati risolti con molteplici aggiornamenti anche ai medesimi pacchetti. Questo è abbastanza ovvio, perché solo quando il sistema operativo sia usato da un bacino più ampio di utenti, le segnalazioni di eventuali problemi si moltiplicano e sono più facilmente identificate e risolte. Se hai installata una versione di Linux Mint 20 o successive, io ti sconsiglio di passare attraverso le molteplici procedure di aggiornamento che dovresti affrontare. Potresti incontrare problemi che non ci sono se installi Mint da capo. Inoltre, un aggiornamento alla cieca a Mint 21 o 21.1 potrebbe mostrarti che la nuova versione crea al tuo computer problemi che non avevi con Mint 20.3. Ecco perché vale ancora di più il mio consiglio di scaricare il nuovo file ISO, preparare una nuova chiavetta e testarlo in una sessione live per verificare che audio, video, touchpad e altre periferiche funzionino prima di qualunque installazioni. Guarda il mio video Verifica compatibilità Linux prima di installare per altre informazioni. Come fare quindi? Se Linux Mint è l'unico sistema operativo del computer, dopo il salvataggio dei tuoi dati, installi Mint 21.1, cancellando il disco e poi li ripristini. Se hai Mint installato in dual boot, a fianco di Windows, dopo il backup avvii la partizione Windows, la gestione dischi, elimini la partizione di Linux e la lasci non allocata. Avvii la chiavetta di Mint 21.1 e l'installazione consentirà di nuovo la scelta di affiancare Linux all'avvio di Windows. Descrivo nel dettaglio le procedure e altri casi particolari nel video Reinstallare Linux Mint. Se invece hai già installato Linux Mint 21, ti consiglio certamente la procedura di aggiornamento. La trovi in Gestore aggiornamenti sotto Modifica. Effettua prima uno snapshot, cioè un punto di ripristino del sistema con Time Shift, giusto per poter riportare il sistema indietro in caso di problemi. Pochi passaggi, molto chiari, nessuna perdita di dati o impostazioni e in pochi minuti il tuo sistema si aggiorna alla versione 21.1. Se invece hai smaniato per installare la versione beta di Linux Mint 21.1 non devi fare nulla, perché è già diventata ufficiale, definitiva e supportata fino a primavera 2027. Inoltre sei certo che fino a tutto il 2024 il team di Linux Mint lavorerà esclusivamente per migliorare Mint 21 e successivi aggiornamenti 21.2 e 21.3. Ok Dario, grazie. Ma io non ho ancora provato Linux Mint e mi ha incuriosito. Come faccio a provare di installare Linux Mint nel mio computer? Il mio computer è adatto? A queste domande sono circa un paio d'anni che cerco di rispondere, con i tutorial nel blog e con i corrispondenti video qui nel canale, oltre che con i miei testi. Trovi infatti questi temi anche nel mio ebook Linux Mint 20.3 installazioni e configurazioni disponibili in decine delle piattaforme di editoria digitale più diffuse. Non ci sono cambiamenti con Linux Mint 21 e 21.1 ed è quindi ancora aggiornato. Nel testo c'è una valanga di informazioni che non ho pubblicato altrove, come ad esempio le modalità, piuttosto complesse e forse non per un principiante assoluto, con cui installare Linux Mint in un differente hard disk rispetto a quello in cui sia presente Windows. Scarica l'indice in PDF per farti un'idea. In ogni caso, vista la scarsa qualità dei primi video con cui ho avviato l'avventura di questo canale, credo che rinnoverò presto alcuni di essi. Concludo segnalando come trovare ulteriori informazioni sull'installazione, configurazione ed utilizzo di Linux Mint e su come trovare aiuto in caso di difficoltà. Anzitutto la documentazione ufficiale. Purtroppo solo le informazioni sulle installazioni sono tradotte anche in italiano ed altre lingue. Ma questo non è un problema. Hai tantissime informazioni qui, nel canale, nel blog e nei miei testi pubblicati e in corso di pubblicazione. Per trovare aiuto in caso di problemi ti chiedo però di non fare riferimento a me, perché sono da solo a gestire blog e canale YouTube, non so tutto e ho sempre più difficoltà anche solo a leggere i messaggi che ricevo. Peraltro una quantità esagerata di informazioni che mi sono richieste in caso di problemi o stranezze, io le trovo semplicemente con una ricerca su internet. Chi sa usare a dovere un motore di ricerca non ha bisogno di altro. Ma ci sono tanti altri canali, ad esempio il forum ufficiale di Linux Mint, che prevede una sezione anche in italiano. Se conosci l'inglese, la sezione internazionale del forum è una miniera di informazioni. Ma puoi anche fare riferimento al forum di Linux.it. Non da meno è lo storico forum di LinuxMind Italia. In tutti i forum citati leggi le regole, effettua una ricerca e se non trovi risposta richiedi educatamente aiuto, fornendo tutti i dettagli possibili sul tuo computer e sul problema. In questo Linux Mint 21.1 ti aiuta, perché da informazioni di sistema che trovi nel menu principale digitando info e premendo invio, trovi adesso due pulsanti per copiare tutte le caratteristiche del tuo computer ed incollarle nel tuo post. Oppure, ancora più facile, per caricare le informazioni online. I dati, in forma anonima sul tuo computer, sono messi temporaneamente in un sito web e ti viene fornito un indirizzo che puoi comunicare nel forum limitandoti a descrivere il problema. Ma come non ricordare anche i Linux User Groups? Si tratta di associazioni volontaristiche, sparse un po' in tutta Italia, che forniscono assistenza gratuita per i problemi più comuni. E possono aiutarti a superare lo scoglio iniziale di installazione o configurazione di un sistema se le tue competenze non ti consentono di provvedere da solo. Consulta la mappa dei Lug su lugmap.linux.it e vedi se puoi metterti in contatto con uno di loro per trovare assistenza. Ultima spiaggia, fai riferimento ad un centro di assistenza informatica dalle tue parti. Basta qualche telefonata per chiedere se gestiscono l'installazione di Linux Mint, possibilmente a fianco di Windows in dual boot. Adesso puoi fare riferimento alla sezione guida del blog per un percorso guidato sullo scaricamento di Linux Mint, la preparazione di un supporto USB per provarlo, installarlo, configurarlo e farci di tutto. E in ognuna delle pagine trovi il riferimento al corrispondente video qui nel canale YouTube di Alternativa Linux. Altrimenti clicca il logo accanto al titolo del video ed entri nella pagina principale del canale dove trovi poco più di 50 video che ho sudato nel realizzare in poco più di due anni. E li trovi organizzati in playlist secondo un ordine preciso. Ora non resta che divertirsi a provare e scoprire Linux Mint e attendere magari il mio prossimo video. Se sei iscritto al canale e dai le notifiche attive saprai immediatamente quando verrà pubblicato e mi darai una mano nel far comprendere al fantomatico algoritmo che mi apprezzi e vuoi che i miei video siano conosciuti anche di a chi ancora non conosce Alternativa Linux. Grazie mille per il tuo tempo e per qualunque commento ti prenderai la briga di lasciare qui sotto per me e per gli altri. Non posso più tenere le notifiche attive ma ancora riesco a leggere quasi tutto e a rispondere nel giro di qualche giorno. A presto allora. Ciao. Grazie.